Sì, la ringrazio Presidente. È stato detto dal collega Cappelletti, un po' da tutti oggi in quest'Aula, tranne ovviamente dagli esponenti della maggioranza che sostiene il Governo. Già prima nella Regione di Bilancio il Governo, ormai lo sappiamo un po' tutti, ha deciso di non confermare, quindi di fatto cancellandolo, lo sconto sulle accise carburanti su benzina, diesel, GPL, le agevolazioni sul metano a partire dal 1 gennaio 2023. Con la conseguenza, che era abbastanza prevedibile, che i prezzi sarebbero e sono lievitati su tutto il territorio nazionale. E siamo diventati, grazie a questa azione, uno dei Paesi in Europa con il più alto costo della benzina. Questo, anche questo è stato ricordato, nonostante la Meloni avesse basato le proprie campagne elettorali, anche l'ultima, sull'impegno di togliere o tagliare le accise. Nel programma politico di Fratelli d'Italia, infatti, la Meloni ha messo nero su bianco la sterilizzazione. Il collega di Fratelli d'Italia che ha parlato prima di me ci ha spiegato che la sterilizzazione non è come quello che in realtà vuole Fratelli d'Italia, che vuole una riduzione strutturale. Nel programma c'era scritto sterilizzazione e comunque io credo che nelle tasche degli automobilisti che si parli di sterilizzazione o di riduzione strutturale non cambi tanto. Noi ricordiamo tutti, io invito tutti a entrare su Google e cercare video Meloni accise e rivaderlo, giusto per rinfrescare la memoria un po' a tutti, e ricordiamo quelle che erano le sue parole che, ripeto, avete capito? Quando voi fate 50 euro di benzina, 15 vanno alla benzina e al benzinaio e 35 vanno allo Stato tra IVA e le famose accise sulla benzina. Avete capito, signora Presidente del Consiglio? Sì, noi l'avevamo capito, infatti, avevamo posto in essere una riduzione e di quelle 35 che andavano allo Stato, 9 le abbiamo rimesse nelle tasche degli automobilisti, quindi di lei nel caso del video di cui parliamo. Forse non aveva ben capito lei che ha deciso di ridare quelle 9 euro allo Stato e di prendersela proprio con quel benzinaio che stava accanto a lei durante il video. Insomma, solo prese in giro per i cittadini e per gli stessi elettori della Meloni. Sta di fatto che la benzina è aumentata ed il costo, lo ricordiamo, lo pagano i cittadini, non solo quelli che vanno a lavoro con la propria auto, ma anche tutti coloro che vanno a comprare il latte, la pasta, la farina, lo zucchero. Quindi, a cascata, è chiaro che i costi dell'aumento della benzina ricadono sull'aumento del costo dei trasporti e sull'aumento del prezzo delle merci trasportate. Un ulteriore aggravio, quindi, sui consumatori finali, quindi, anche riferendomi alle parole che ho sentito oggi in aula, altro che abbiamo deciso di dare priorità al contrasto all'aumento dell'inflazione, avete fatto l'esatto contrario. Avete posto in essere una misura che alimenta l'inflazione. Forse è l'elemento che più di tutti alimenta l'inflazione. Il Governo ha provato a metterci una topa, facendo, ahimè, ancora più disastri, prendendosela non con loro stessi, ma con i benzinai, bollandoli come speculatori, rendendo a questi ultimi la vita ancora più difficile. Questo, nonostante la Guardia di Finanza, è stato ricordato, abbia verificato come dal 1 gennaio il prezzo medio dei carburanti si è aumentato di 16,3 centesimi al litro, mentre le accise sono cresciute già da prima della legge di bilancio per la decisione del Governo, che ha ridotto lo sconto, di 18 euro, quindi 15 più IVA, praticamente l'esatto importo, perché l'Esecutivo ha prima diminuito questo sconto da 30 a 18 centesimi a dicembre 2022 all'interno del DL accise. Poi ha scelto la carta dell'inerzia, non rinnovando in sede di legge di bilancio quest'ultimo taglio delle accise, che andava in scadenza il 31 dicembre 2022. Dal 1 gennaio 2023, quindi, è scomparso di tutto lo sconto di 30 centesimi al litro. Quindi, non c'è speculazione, ma c'è semplicemente aritmetica. Al prezzo che c'era fino al 31 dicembre, si aggiungono i 18 centesimi di accise IVA e si ottengono gli aumenti. Insomma, non è speculazione. Secondo il Governo, non sono stati l'ora ad aumentare le accise, visto che si sono limitati a mandare a scadenza uno sconto previsto fino al 31 dicembre scorso. Una spiegazione abbastanza risibile, dal momento che è di per sé grave non avere in questo momento confermato un taglio delle accise come prezioso strumento anti-inflazione. Quindi c'è una precisa scelta politica dell'Esecutivo, rispetto alla quale è semplicemente ridicola questa fuga dalle responsabilità, gridando allo speculatore. La gravità della decisione sta anche nel fatto che favorisce un pericoloso effetto palla di neve. Ne ho parlato anche poco fa. L'aumento del prezzo della benzina si tramuta in aumento dei costi di trasporto con effetti finali che si traslano sui prezzi finali, soprattutto dei generi alimentari a ulteriore danno dei consumatori, quelli che hanno maggiori difficoltà in questo momento. Un effetto drammaticamente non considerato dal Governo. Questo effetto palla di neve è stato confermato anche dal Presidente dell'Istat Blangiardo il 10 gennaio. Secondo Blangiardo i carburanti hanno sull'inflazione, non c'era bisogno che ce lo spiegasse, l'avevamo intuito, però hanno un effetto sull'inflazione diretto e uno indiretto, dovuto appunto ai trasporti e alla intermediazione. Questo può rappresentare, sempre parola di Blangiardo, un grosso problema in prospettiva se le cose dovessero andare nella direzione di una continua crescita. Noi abbiamo proposto degli emendamenti, abbiamo tentato di evitare l'introduzione dell'obbligo per i benzinai di esporre un prezzo medio del carburante. Anche nell'audizione ce l'ha detto anche l'autorità garante per la concorrenza, ma anche qua non c'era bisogno che ce lo dicesse l'autorità garante per la concorrenza. Se si chiede ai gestori dei benzinai di esporre un cartello con un prezzo medio, se in quel territorio nel raggio di 10 km, perché anche questo è stato già detto, la concorrenza sui gestori e sui benzinai agisce nel raggio di pochi chilometri, praticavano un prezzo più basso di quello che è il prezzo medio regionale, i benzinai si sentono tranquilli nel avvicinarsi a questo prezzo medio regionale. Quindi la sostanza è che il governo ha proposto un cartello legale, quindi praticamente sta promuovendo l'aumento dei prezzi per chi fino ad adesso applicava prezzi più bassi. Quindi alla fine paradossalmente il governo rischia, e succederà sicuramente così, di ottenere esattamente l'effetto contrario di quello che voleva scongiurare. Abbiamo proposto di estendere l'applicabilità del bonus carburante ad altre modalità di spostamento per riequilibrare la sperequazione tra lavoratori pendolari che si spostano in automobile e quelli che si spostano con altri mezzi di trasporto. Abrogare il prezzo medio regionale, ripristinare lo sconto sulle accise, coprendolo con le risorse derivanti dall'introduzione di un contributo sugli extraprofitti del settore farmaceutico e assicurativo. Risorse che sono stimate in 9 miliardi per il 2023 e 12 miliardi per il 2024. Quindi abbiamo provato a introdurre questo contributo anche in legge di bilancio. Il governo ha preferito voltarsi da un'altra parte, eppure nella stessa direzione vanno importanti contributi internazionali. Cito la Commissione indipendente sulla tassazione internazionale delle imprese, co-presiduta dal premio Nobel per l'economia Stiglitz, che spesso è citato e menzionato da autorevoli esponenti della maggioranza. A ottobre del 2022 ha pubblicato un report in cui si propone, propone, appunto di tassare i superprofitti dei settori energetico, farmaceutico e finanziario. In tempi più recenti lo stesso Stiglitz è tornato a invocare con forza forme di tassazione dei cosiddetti profitti inaspettati e straordinari. Questi sono solo alcuni degli esempi delle proposte, non solo nostre, ma anche dei nostri emendamenti. Ce ne sono stati tanti altri. Io vado a conclusione, Presidente, perché continuo a non comprendere quale sia la linea politica-economica che questo Governo e questa maggioranza vogliono seguire. Si va avanti, come abbiamo visto in questo caso, con provvedimenti scomposti, inutili, incomprensibili. In questo caso è stato emanato un decreto ad hoc per tentare di porre rimedio alla decisione di aumentare le accise, giustificata con la volontà di dare priorità al contrasto e all'inflazione per aiutare famiglie in difficoltà, come se l'aumento del costo del carburante non contribuisse più di tutti gli altri costi, perché, l'abbiamo detto, genera un effetto a catena. Nel cercare di mettere una pezza, ve la siete presa con lo debole della catena, che sono i gestori dei distributori di carburanti, senza, peraltro, risolvere il problema, anzi rischiando di ingigantirlo, creando appunto un cartello legale di fatto. Quindi, da una parte, assistiamo ad azioni del tutto scomposte che rischiano di danneggiare tutti i cittadini e imprese. Dall'altra, ad un costante, strisciante tentativo di accontentare una certa tecnocrazia. Notizia di ieri, la volontà del Ministero dell'Economia, l'intenzione di fermare la nuova proposta di risoluzione dei problemi dei crediti incagliati e di rilenciare il super bonus, con un'azione delle regioni, tra l'altro in gran parte espressione del centro-destra, che sono finalizzate all'acquisto di questi crediti, con un evidente ulteriore vantaggio per lo Stato nella sua accezione più alta. E questo lo vorrei dire, e invito tutti a riflettere su questo. Perché, se una pubblica amministrazione acquista a 100 un credito che vale 110, alla retroazione fiscale di cui tutti ormai abbiamo sentito, quindi il ritorno per lo Stato, che va dal 50 al 70% degli investimenti su questa misura, sul super bonus, si aggiungerebbe un ulteriore guadagno per la pubblica amministrazione, nella sua accezione più ampia, del 10%. Quindi questo è un elemento su cui invito a riflettere anche il sottosegretario Bitonci, che so essere persona attenta. Io chiedo a chi state rispondendo. Io pensavo alla tecnocrazia europea, ma non è vero nemmeno questo, visto che Eurostat ha dato un parere discordante rispetto alla narrazione portata avanti dal governo su super bonus e crediti fiscali. Ha detto chiaramente che non ha generato, non genera e non genererà debito pubblico. L'ha detto in italiano. Forse volete rispondere a un'altra parte di tecnocrazia, a quella che dicevate sempre di voler contrastare. Quella parte di tecnocrazia che vuole mantenere il nostro Paese fortemente dipendente dal vero debito pubblico, quindi quello su cui paghiamo gli interessi passivi ogni anno, dai 50 ai 70 miliardi l'anno. Quella parte di tecnocrazia che vuole continuare ad imporci tagli e austerità e di cui, in contraddizione con quanto avete venduto ai vostri elettori, vi state rivelando i più servili esecutori. Grazie Presidente.